bene le mani si uniscono nel centro del petto pronte a fare questa nostra sequenza saluto al sole per le donne in gravidanza e piego leggermente le gambe se ne sento il bisogno apro i piedi alla larghezza che è consona per me per il mio bacino per restare ben radicata la terra apro bene le dita e cerco un buon ancoramento il coccige è tirato verso la terra inspiro e intreccio le mani e espiro porto i palmi in fuori inspiro vado verso il cielo e apro le mani verso il cielo e cerco questa energia di sole di luce di forza in e espiro scendo un po di più verso la terra e porto le mani a cercare la terra aprendo i piedi se ne sento il bisogno allungando la schiena portando la mano destra la terra la sinistra sopra imbumi la terra l'esistere il qui e ora e espiro e cammino con le mani in avanti appoggiando un ginocchio e l'altro ancora bene le mani e piedi inspiro in arco la schiena e espiro svanasana le mani e i piedi cercano l'ancoramento alla terra mentre il bacino è tirato verso il cielo arrivo dove posso anche a gambe piegate adho mukha svanasana inspiro ed espiro appoggio le ginocchia e provo aprirmi in urdva mukha svanasana il bacino scende questa volta e lui verso la terra e il capo viene tirato verso il cielo in espiro ritorno in quadrupedia porto la gamba sinistra e il piede sinistro vicino alla mano sinistra per cercare un affondo in vasubaria la figlia del sole una mano e l'altra si spostano più avanti e i gomiti cercano la terra se è facile arrivo fino ad appoggiare la fronte alla terra in dharmika vasubaria saluto alla figlia del sole rispettando le mie anche il mio corpo inspiro ritorno avvicino una mano e l'altra al piede e recupero la gamba sinistra ancora mi allungo inspiro apro e espiro mi allungo svanasana adho mukha svanasana inspiro ed espiro apporgio le ginocchia e mi apro il bacino cerca la terra e urdva mukha svanasana in espiro ritorno in quadrupedia